Ciao ragazze, allora intanto iniziamo con un video con una notizia che mi fa incazzare come una bestia Allora, ve la ricordate Olga Mattei? Allora, Olga Mattei è una donna che è stata ammazzata da un compagno una persona che aveva iniziato a vedere su internet lo vedete tranquillamente la cosa che mi fa incazzare, questo per gelosia, l'ha ammazzata da 30 anni che doveva ricevere ha avuto invece solo 16 anni e va e si incazza la cosa che ha ammazzato una persona ha avuto solo 16 anni invece che 30 si incazza e dice che viene demonizzato e secondo telegiornale Rai va anche a dire sono stato demonizzato mo mi ammazzo a vaffanculo cazzo hai ammazzato una persona e ti permetti pure di parlare ma vergognati, sei stato demonizzato, è logico, l'hai ammazzata e ti viene pure a lamentare fatti sti 16 anni e non rompere i coglioni e che cavolo ci vorrebbe Masini che cantasse vaffanculo e scusate ma a me mi viene da dire vaffanculo e con questo vi saluto ciao a tutte